Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Un altro? Dov'è l'altro? Penso che sia atterrato eccolo Me lo venghi così vado su? Esatto? Dov'è? Adesso ho salvato una clip ma vai a fare in culo te lancia spade cala puttana di tua madre pezzo di merda Buono che ho riswitchato subito le ho trattate un'altra pompata E i tizi che ci sono entrati in casa abbiamo distrutto senza prendere danno Merda? Paccati quelli la Eh minchia Ciao Elena Penso che ci buttiamo proprio alla fine raga Sì Ho detto che banni tu zack Ho detto che devi bannare tu Sbanna questo qua Dai vai anche te Dai, mi hai son rotto i coglioni Vai, ciao Ho 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 fattuto paddaro di merda fottuto paddaro di merda scoppia mentality e focus buongiorno cr20 io 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 no maia non mi hanno pagato le corone sono stato deliberatamente scammato vado ad ammazzare un po di gente grazie per i 9 cr20 grazie let's fucking go pensa un po spero proprio proprio in questo momento guarda faresti un favore a tutta l'umanità faresti un favore fallito dalla società a bordo del cazzo ma quella puttana di tua madre invece che cagarti perché t'ha partorito io caro solamente all'inferno per questa stiamo ero del pericolo da gandiamo io ho preso tutto trick si dire fino a notte però è un pazzo è qui cazzo fa glielo cantata mi scusi 24 grazie tempo ruva melone anguria mandarino limone banana 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 limone mandarino anguria melone melone manidarino melone per giorni degli milone pariani non limone pesca me l'avoir green dolures mandarino per anguria mandarino limone melaverte limituri limone melaverde mandarino limone mandarino limone dal limone ma ben rinome non voglio pusciare ma che cazzo devo fare ok ottimo ottimo porto uno fatelo fatelo let's go figli di puttana ciucchiatemi il cazzo coi coglioni inclusi quelli di fucile a pompa l'84 una spada all'83 che sono stragod secondo me bene bene io sto recuperando sto aprendo tutte le cose che trovo per i materiali sì certo salutiamo gli amici della seconda id ciao ragazzi ciao come va come va c'è un mini che mi vuole abbracciare ma io non voglio essere abbracciato da noi ci sta lorenzo seba gorgo carlos artea grazie mille anche a sguazzin lore dai raga ne mancano 10 va bene mago ci sta c'è devo vincere una partita solo con la pistola mitica posso avere più di una pistola mitica oggi stacco alle 14 poi se mi girano e se c'ho voglia riattacco alle 18 e 30 per il cast ok posso avere più di una pistola mitica questo conferma quanto non puoi abbassare la guardia e devi stare attento a tutto vero hai ragione però non abbiamo sentito loro stavamo venendo cioè non è che erano fermi immobili sul tetto immagino non ho guardato il tetto io non so non posso guardare tutto no perché no no mi hai buttato non è bravo che cazzo devo dirti e vaffanculo bravo e porco diaz e cristo dio cristo e che cazzo è bravo ma vaffanculo va merda o quanto cazzo stanno invasati sti bimbi di merda ma porco diaz ma vai a scuola coglione merda dio caro ma ti spero ti scoppia tutto porco diaz dio caro amma mia o tossici di merda bimbi del cazzo falliti come quelle puttane di merda che vanno cagato invece di partorirvi cristo dio però per me potete anche giocare in due sono vince ancora ne ve lo dico no diciamo che vinciamo con quello che pusha da solo figa non puoi cagli lo io tengo a battaglia non si preoccupi ok facciamo questo game la vinciamo e vinciamo tutte pizza detto afferma di vincerle tutte molto bene bene vabbè pizza facciamo così ti giungo adesso in col così evitiamo di cosare appena entri in colla almeno sappiamo che ci sei figlio di una grande amica mia oddio se creano altri gruppi vabbè la chiamo merda regalato natale signori la pami non si fa vedere ha portato della roba è calda non la mangiare adesso che è calda ok amore mio la pami ha portato dell'aperitivo andiamo avanti ha lasciato anche l'acqua nuova patatine per andare da mia moglie a cantare cose e me la ricorda perché sono cresciuto con giovanotti i miei genitori ascoltavano spettacolo che ho appena visto la pami è fortunata sembrava molto giovanile con quel cappellino addosso si? si gli davo con più di 37 anni Luigi buongiorno buongiorno anche a te caro dai ragazzoni non siate timidoni che minchia ho preso merda il triangolone va bene così va bene così io spero che ci matchi abbastanza rapidamento e siamo dentro raga eh